Musica Buongiorno e benvenuti a questa prima edizione del nostro telegiornale, un'edizione che apriamo parlando di Francesco Priolo alla guida del rettorato dell'Università di Catania. Trasparenza, competenza, città sono queste le direttrici su cui si muove il programma del neoeletto ma prima di parlare di questo ci soffermiamo nel rione di Picanello a Catania su via Galatioto dove la notte scorsa c'è stato uno scontro tra due scooter, un incidente stradale che ha portato due ragazzi, due persone in ospedale al Canizzaro di Catania, uno dei due grave. Sentiamo il servizio di Mario Grasso. Ancora un grave incidente stradale in via Galatioto, cuore del quartiere di Picanello a Catania, pochi passi dalla chiesa di Santa Lucia. Stavolta, per causa ancora in corso di accertamento da parte della polizia locale del capoluogo etneo, sono venuti in contatto due scooter, i cui conducenti sono stati trasportati con due ambulanze al pronto soccorso dell'ospedale Canizzaro. Uno dei due, un 44enne, a causa dell'impatto, è stato sbalzato dalla sella dello scooter e sarebbe finito sotto un'autovettura parcheggiata nei pressi del civico 125. È stato condotto in ospedale in codice rosso per via del trauma toracico addominale giudicato serio dai sanitari. All'uomo è stata riscontrata anche una frattura ad una gamba ed è stato operato, è stato poi condotto in rianimazione. Il secondo motociclista è stato invece ricoverato per politrauma ed è tuttora in osservazione. L'incidente si è verificato poco prima dell'1.30 di notte, in un orario in cui dunque pochi veicoli transitano in zona. In passato, proprio su questa strada, si sono verificati incidenti la cui dinamica, ovviamente accertata successivamente, ha quasi sempre avuto origine dall'imprudenza di uno o più dei malcapitati protagonisti. Come dicevamo, per quanto riguarda l'impatto di ieri sera non è ancora possibile determinare la causa o eventuali responsabilità, in quanto i rilevamenti sono ancora allo studio delle forze dell'ordine intervenute sul posto, subito dopo scattato l'allarme. Certo è che a Catania, durante le ore della notte, è sempre più difficile circolare con una certa serenità, proprio per il rischio che automobilisti, ma soprattutto conducenti, di mezzo a due ruote, corrono nell'attraversamento dei vari siti stradali, soprattutto dei tanti incroci che segnano i vari quartieri popolari, quasi mai regolamentati da impianti semaforici, e dove anche il parcheggio selvaggio e la segnaletica orizzontale verticale carente costituiscono talvolta con causa, non secondaria. L'invito è sempre quello, il solito, massima prudenza, soprattutto quando si marcia durante le ore della notte. Cronaca, pensionato invaguito di Leila costringe a fuggire seminuda in strada. I carabinieri della stazione di Bronte hanno arrestato nella flagranza un pensionato di 76 anni, ritenuto responsabile di atti persecutori, reato commesso in danno alla propria badante di 53 anni. La donna infatti, dimorante presso la casa del pensionato, si era resa conto che le attenzioni morbose da parte di quest'ultimo avevano travalicato il normale rapporto lavorativo e per la loro ossessiva continuità le impedivano di assolvere i propri impegni familiari. Da cui la decisione della collaboratrice di interrompere il rapporto di lavoro che però ha scatenato l'ira del pensionato che l'ha anche percossa con le stampelle che utilizzava per camminare, minacciandola con un coltello e rinchiudendola all'interno dell'abitazione. La vittima però è riuscita a fuggire dall'immobile, ha chiesto aiuto ai carabinieri. Soccorsa è stata accompagnata all'ospedale di Bronte dove i sanitari le hanno diagnosticato un trauma contusivo all'emitorace sinistro, mentre l'uomo ricercato dai militari è stato rintracciato poco dopo. Proprio lui, a sua discolpa, ha asserito che stava aspettando la donna perché la riteneva responsabile del furto di una somma di denaro senza però circostanziare adeguatamente quanto denunciato. Naturalmente l'uomo è stato arrestato. Mentre a Catania un pregiudicato armato, ubriaco, è stato bloccato dai poliziotti del reparto di prevenzione crimine Sicilio-Orientale. Una notte movimentata per gli agenti del reparto prevenzione crimine nella zona di via Luigi Sturzo. Si sono imbattuti nella vettura condotta da un pluri pregiudicato al quale avevano inizialmente intimato di fermarsi per un controllo. Il conducente però dopo aver abbozzato una manovra di arresto in realtà poi ha accelerato bruscamente allontanandosi dal posto di controllo. I poliziotti però hanno notato la targa e bloccato il soggetto in via Manzoni. Da qui la perquisizione del mezzo ed è stato rinvenuto un coltello a serramanico di 18 centimetri. L'uomo peraltro era già sottoposto alla misura alternativa dell'affidamento in prova ai servizi sociali e oltre che andarsene in giro armato era completamente ubriaco. Sono stati consegnati stamani lavori alla ditta incaricata per la demolizione della scuola primaria di Pennisi frazione terremotata 10 reale. Nei prossimi giorni sarà una società di Trento a realizzare il prefabbricato in legno antisismico ed ecologico. Pronti anche i progetti di messa in sicurezza di via Cefalù e via Messina danneggiate dal sisma di Santo Stefano. Salvo Cutuli. Consegnati stamani lavori di demolizione e ricostruzione della scuola primaria di Pennisi compromessa dal sisma dello scorso 26 dicembre. La struttura verrà demolita nei prossimi giorni. L'impresa giudicataria realizzerà la base in cemento compresi sotto servizi su cui poggerà il fabbricato in legno i cui lavori sono stati affidati ad un'azienda di Trento specializzata nell'allestimento e chiave in mano di costruzione antisismiche ed ecologiche certificate. Costo complessivo dei lavori circa 200.000 euro di cui 50.000 per l'abbattimento del vecchio plesso stanziata dal comune e la restante somma con fondi della protezione civile a copertura dei costi di realizzazione e collocazione del nuovo modulo che non è un container ma una funzionale struttura capace di accogliere in tutta sicurezza gli alunni della primaria. Prima di dare via le opere di demolizione gli operai del comune recupereranno infissi arredi ancora utilizzabili. La consegna delle opere è prevista entro il prossimo mese di novembre almeno di imprevisti. Si allungano i tempi invece per l'altra scuola danneggiata dal sisma di Piano d'Api. Le valutazioni dei tecnici della protezione civile che hanno eseguito la microzonazione del territorio escludono ogni ipotesi di cementificazione delle aree interessate attraversate dalla faglia. La scuola dei Pennisi all'esterno appare integra all'interno della situazione è quella che vedete nelle immagini. Buone notizie infine per via Cefalù e via Messina nella frazione di Aciplatani danneggiate dal terremoto depositati i progetti di messa in sicurezza. Si tratta di due arterie fondamentali per i collegamenti viari rispettivamente tra cicaterina cereale e la mobilità interna alla frazione. Si accelerano i tempi sempre con i tempi della burocrazia perché noi siamo vincolati a fare gare quindi siamo al ridosso dell'inizio dell'anno scolastico però speriamo di riuscire in qualche modo anche a dare una prospettiva agli ragazzi di Pennisi e fare capire che qui ci sarà un'opportunità di una scuola molto più efficiente, molto più bella molto più moderna, ecocombatibile di quella che c'è attualmente. Oggi è stata affidata alla ditta i lavori per la demolizione e la realizzazione della base in cemento in cui verrà appoggiata questa struttura in legno una struttura moderna una struttura adatta per una scuola non è un container quindi è proprio una scuola in legno come non ce ne sono altre ancora da Cireale quindi sarà anche una cosa abbastanza innovativa La soddisfazione della dirigente della Giovanni XXIII Smalfina Bertecchi ha la competenza amministrativa della Don Giuseppe Panebianco di Pennisi Sarà una scuola bellissima in questo caso davvero e sarà bella perché rinascerà proprio nello stesso luogo dove è scuola per cui sono convinta è una scuola che come struttura va benissimo con il percorso di scuola che noi andiamo a strutturare per cui è veramente completa un po' tutto la speranza oggi si concretizza i tempi mi aspettavo e i primi di settembre saranno probabilmente pochissimo più lunghi però ne vale la pena Torniamo alla notizia di apertura del nostro telegiornale parliamo appunto di Francesco Priolo alla guida del rettorato di Catania dell'Università di Catania Trasparenza, competenza e città sono le direttrici su cui si muove il programma del neoeletto che abbiamo incontrato proprio questa mattina per noi ha seguito il momento Mario Grasso Laureato in fisica con 110 lode un periodo di ricerca nei laboratori della Bella a New York poi ancora la prima direzione del centro di ricerca Matis quindi la presidenza Strasburg della Società Europea dei Materiali oltre 400 le pubblicazioni su riviste scientifiche internazionali e il profilo non completo del nuovo rettore dell'Università di Catania Francesco Priolo decano dei fisici catanesi già presidente della Scuola Superiore di Catania eletto ieri in maniera pubblicitaria dall'Ateneo Catanese 975 voti con 311 del competitor Vittorio Calabrese un'elezione che dunque amalgama le varie sensibilità universitarie diversi distretti le componenti degli insegnanti degli studenti degli amministrativi idee chiare per Priolo sin dal primo giorno da rettore eletto non vorrei parlare del primo giorno qui ci sono tanti tanti giorni uno dopo l'altro perché è con tanti giorni di lavoro che si costruisce l'Ateneo del futuro l'Ateneo di questa città l'Ateneo di questo territorio e allora quello che vorrei dire è che per me la parola principale è partecipazione perché deve essere un Ateneo in cui tutte le componenti i docenti il personale tecnico amministrativo e fatemi dire specialmente gli studenti devono essere coinvolti ieri molti studenti hanno subito applaudito alla sua elezione beh sì perché gli studenti sanno che il mio rapporto con loro è speciale lo è stato alla scuola superiore di Catania lo è stato e lo è con gli studenti dei miei corsi lo è con gli studenti del Dipartimento di Fisica e Astronomia Ettore Majorana di cui ora sono direttore e quindi questo rapporto speciale lo trasferirò in Ateneo perché l'Ateneo è degli studenti e per gli studenti lo devono fare anche loro anzi specialmente loro loro sono le forze giovani con la fantasia che devono aiutarci a costruirlo e a costruirlo bene Senta come può oggi l'Università di Catania contribuire perché i giovani non vadano via sui giovani investono le famiglie ma investe anche la società investono li formano ma sono poi costretti ad andare via si perde dunque un capitale umano ma anche economico beh ci sono tanti punti uno riuscire ad avere dei corsi ancora più attrattivi ma un punto centrale è quello dei servizi riuscire a fornire più servizi per gli studenti e infine il placement quindi noi lo sappiamo abbiamo un territorio difficile non ci troviamo in un territorio lombardo per esempio ma ciò nonostante già il nostro centro di orientamento e formazione sta facendo tanto dobbiamo fare ancora di più per offrire ai nostri studenti che sono bravi più opportunità di lavoro lei ieri ha avuto come abbiamo già detto un vero proprio plebiscito forse mai in una seconda elezione c'è stato un voto così netto e chiaro anche derivato dal fatto che i suoi colleghi competitor avevano poi dato disco verde assicurando massima collaborazione proprio in un contesto unitario dell'Università di Catania questo credo che possa essere forse il miglior motivo di garanzia per chiudere una pagina l'Università di Catania e aprirne una nuova beh in qualche modo sì in qualche modo sì l'Ateneo c'è stato l'Ateneo ha partecipato nonostante le date agostane e questo è molto importante è molto importante il dato di ieri perché si è sentito che l'Ateneo c'è e c'è in tutte le sue competenze vogliamo ripartire ripartire tutti insieme a fiume freddo adesso dove continuano i disagi causati dalla carenza di acqua il sindaco Sebastiano Lucifora dice due le azioni prima fra tutte la richiesta di altri 30 litri al secondo già fatta peraltro alla regione siciliana vediamo emergenza idrica fiume freddo continuano i disagi legati all'erogazione di acqua nelle abitazioni nel comune della riviera Ionica un problema vecchio è ancora non risolto sebbene l'amministrazione comunale da tempo stia adottando misure per fronteggiare la questione particolarmente calda nel periodo estivo quando la popolazione qui si triplica tra villeggianti turisti e residenti acqua a filo dai rubinetti e solo ai piani bassi diverse le congiunture prima fra tutte l'abbassamento delle falde quest'anno che va a sommarsi al malcostume di chi utilizza questo bene prezioso non solo per uso domestico e con allacci abusivi a tal proposito i controlli già effettuati e che continuano hanno portato a denunce penali 38 le pompe di rilancio che lavorano senza sosta 24 ore su 24 e se una di queste si guasta come è normale che sia il disagio si fa più pressante il problema del idrico del comune di Fimifredi è un problema molto serio noi siamo capitati in una congiuntura particolare e cioè quest'anno c'è meno acqua che scende dall'Etna quindi la falda si è notevolmente abbassata a detta dei tecnici tant'è che nemmeno il fiume freddo riesce a sboccare a mare e questo è un primo aspetto diminuzione della quantità idrica fornita alle falde alla bufano poi pare che ci siano problemi all'interno del partitore in quanto la bufano in più in più note ci ha sostenuto che il comune di Messina fornisce in maniera alternata giorno e notte acqua in meno il comune di Messina ha scritto una nota e dice che ciò non è vero noi per alleviare tutte queste problematiche abbiamo acquistato stiamo acquistando ulteriori 20 litri di acqua al secondo in più rispetto alla concessione che avevamo avuto però il problema fondamentale ci siamo resi conto che è dovuto a un eccessivo consumo e un perlievo da parte di soggetti inqualificabili indiscriminato dall'acquedotto perché l'acqua che inseriamo nell'acquedotto è veramente una enormità e ci siamo resi conto di questo quando nel mese di luglio si sono avute delle piogge e come per miracolo all'improvviso per circa 10 giorni l'acqua arrivava alle mansarde e anche oltre non potevano nemmeno aprire i rubinetti per la pressione che si esercitava sulle utenze quindi di conseguenza abbiamo capito che ci sono troppi allacci abusivi e troppi furti nell'acquedotto i vigili urbani sono stati in continuazione in movimento e noi facciamo tutti i controlli rispetto a tutte le segnalazioni che ci arrivano per fare le verifiche il nostro malgrado abbiamo dovuto denunziare varie persone alla procura della Repubblica per prelievi diversi dall'uso potabile dell'acquedotto comunale questo era il nostro dovere lo stiamo facendo però è chiaro che per risolvere il problema non bastano queste cose noi abbiamo fatto per dire quello che come il nostro comportamento qualcuno dice non stanno facendo nulla non è vero noi abbiamo chiesto abbiamo fatto due azioni per l'acqua la prima è richiedere ulteriori 30 litri al secondo alla regione la seconda azione è quella di aver fatto direttamente la richiesta al genio civile per l'ottenimento di un pozzo nostro comunale per far sì che immettiamo più acqua all'interno dei nostri serbatoi la bufordo si è opposta e stiamo aspettando le risultanze di questa opposizione per procedere allo scavo di questo pozzo che serva direttamente il comune di Fimefreddo senza passare da altri enti perché è paradossale che al giorno d'oggi noi non abbiamo una concessione diretta cioè noi direttamente come comune per avere dell'acqua nostra a riposto domani cominceranno i lavori per il recupero del primo bacino al porto stamani sopra il luogo dell'amministrazione comunale in vista dell'inaugurazione ufficiale alla presenza dei massimi esponenti della regione siciliana formalizzati all'inizio dell'estate dopo la pausa estiva prevista partono ufficialmente i lavori per la messa in sicurezza del primo bacino al porto di riposto domani mattina sarà il presidente della regione musumeci accompagnato dall'assessore all'infrastruttura e falcone a dare il via simbolicamente all'opera strategica già finanziata per un milione di euro e appaltata sul posto operazioni preliminari preparatorie l'intervento di pulizia dell'area interessata dal cantiere ad opera degli operai del comune e della nettezza urbana visibilmente soddisfatto il sindaco che monitora i lavori come sia arrivato a tutto questo? con costanza per vietà capacità impegno cercando di non mistificare non svendendo per la politica ma dando la realtà dei fatti abbiamo fatto uno studio appropriato abbiamo visto quello che erano tutte le magagne e le mancanze fatte nel tempo abbiamo visto in effetti qual era il danno da dove sorgeva questo danno da che cosa era stato arrecato il danno l'abbiamo studiato e per non andare in causa perché dovrebbero in causa di molti anni abbiamo trovato questa soluzione che attenuerà questo motondoso e quindi renderà sicuro il primo pacino si tratta di un primo step che consentirà la messa in sicurezza dell'area portuale fronteggiando la minaccia delle onde spiega l'assessore a ramo si renderà questa prima la bagnina di riva non riflettente e quindi si attenuerà tantissimo il motondoso con una serie di una massicciata comunque sono opere provvisore che poi saranno rimosse nel momento in cui il molo forano sarà completato e che quindi possiamo ampliarlo ancora di più oltre 600 mila euro sono stati istanziati riscritti in bilancio dalla regione per il secondo passo in circa un anno la realizzazione daranno la possibilità di eliminare queste diciamo i pontili distrutti dalle varie amareggiate rifare un molo un unico molo che sarà reso non riflettente su piloni è una cosa tecnica particolare comunque renderà il molo non riflettente e poi il resto sarà destinato a queste grandi abbe ai treghetti alle navi passeggeri piccole o grandi questo poi vedremo secondo i vettori che saranno assegnati e di questo siamo soddisfatti tutto questo è per i ripostesi e soprattutto per tutto il comprensorio ionico e teneo su questa strada il futuro dei progetti ambiziosi del porto turistico tra l'Etna e lo Ionio schiaccia l'occhiolino alla Green Energy ad Acireale questa mattina la presentazione di San Mariat 2019 musica fotografia pittura e creatività nella due giorni tra il 31 agosto e l'1 settembre vediamo il servizio di Salvo Cutuli presentato stamani il Summer Youth 2019 stelle d'arte allo Space Music 10 reali prossimi 31 agosto e 1 settembre dalle 19 alle ore 22 negli spazi interni del laboratorio creativo comunale musica e arte si incontrano per diventare assolute protagoniste delle due serate che vedranno l'esibizione di alcune band 5 quelle ammesse a partecipare che eseguiranno composizioni evocative di contorno alle esposizioni pittoriche fotografiche e illustrazioni a cura di Marco Mancuso tra gli organizzatori della Due Giorni in questo spazio espositivo che è anche aria creativa per giovani musicisti grazie alle due sale di registrazione disponibili che nel corso degli ultimi anni sono state potenziate tecnologicamente durante l'esibizione dei vari gruppi nel programma sarà data la possibilità agli artisti e ai presenti di dipingere contribuendo così a creare un linguaggio composto da musica e pittura in un contesto artistico stimolante ed innovativo per lo Space Music allocato nell'ex scuola elementare di Via Cerelle l'occasione di aprire gli studi alla città soprattutto ai giovani Beh, innanzitutto è stato un po' un caso all'inizio perché con dei miei amici ci siamo ritrovati e abbiamo deciso di creare questo evento perché andavo a unire quelle che erano le nostre passioni quindi musica, pittura, fotografia creando appunto così un linguaggio che è unico inoltre durante l'evento ci saranno delle estemporanee e poi daremo anche spazio alla meditazione e vorrei sottolineare la presenza di un importante artista che si propone qui come un ponte per quello che è e l'artista è Cristiano Minellono che ha scritto vari brani per Adriano Celentano Mia Martini eccetera eccetera presenterà delle foto ed è bello perché va a rappresentare proprio quello che noi vorremmo raccontare in questa mostra quindi l'unione tra le varie arti e per la prossima stagione l'amministrazione progetta di coinvolgere gli studenti delle scuole cittadine e i disabili in un percorso che intende sviluppare la creatività di ragazzi e ragazze attraverso la musica ed altre iniziative artistiche e soprattutto ha lo scopo di aprire le porte di tutto ciò che tra virgolette appartiene al comune e quindi a tutti i cittadini affinché i giovani soprattutto in questo caso possano sfruttare i locali e diciamo organizzare delle manifestazioni che coinvolgano soprattutto appunto la fascia giovanile due giornate dedicate all'arte perché attraverso l'arte i nostri ragazzi abbiano la possibilità di potersi esprimere quindi non soltanto arte pittorica ma anche musica e tanto altro è importante aprire lo space music perché purtroppo devo dire che a tutt'oggi non tutti i cittadini e non tutta la città è a conoscenza del fatto che esiste questa bellissima realtà per cui giorno 31 e giorno 1 dalle 19 alle 22 tutti i cittadini e soprattutto i giovani sono invitati a partecipare adesso parliamo di BRT a Catania come sapete sono in corso in queste settimane le attivazioni dei cantieri in diversi punti della città che consentiranno di poter far muovere agevolmente appunto gli autobus e bus che non resteranno invischiati nel traffico così come è già avvenuto su Viale Vittorio Veneto adesso è la volta del Viale Mario Rapisardi dove appunto sarà realizzata una ulteriore corsia per i bus veloci sentiamo Mario Grasso proseguono i lavori di allestimento della corsia protetta in cui far correre in maniera veloce il bus BRT in Viale Vittorio Veneto a Catania contestualmente proseguono anche i colloqui le iniziative che l'amministrazione comunale ha avviato con i commercianti con i residenti nel tentativo di superare le perplessità avanzate sulla sede stradale che alcuni ritengono essere non talmente ampia da poter ospitare il BRT oltre che per la presenza di una scuola con tutto quel che ne consegue sull'asse di Viale Vittorio Veneto fa discutere certamente la corsia centrale protetta ed anche la regolamentazione dei posti auto che l'amministrazione però afferma sarà adeguata alle esigenze dei commercianti dunque con una turnazione di posto assicurata attraverso la sosta a pagamento delimitata in tempo congruo oppure ancora davanti la scuola potrebbe essere istituito il divieto di sosta durante l'ingresso e l'uscita dalle elezioni per così favorire la fermata dei veicoli tra qualche giorno i primi test poi l'inizio dell'anno scolastico e stasera nuovo incontro con cittadini e commercianti ma intanto lo sguardo si volge già verso altri importanti assi viari cittadini come Viale Mario Rapisardi anche qui sarà realizzata una corsia BRT anche qui monta la polemica circa l'utilità o meno del BRT protetto in quest'area di Catania altamente commerciale così come sottolineano alcuni vertici di confcommercio come dire la storia che si ripete in un contesto di traffico cittadino caratterizzato dall'enorme volume di autoveicoli in cui attualmente si immergono i mezzi pubblici di trasporto che ha bisogno per rispettare i tempi di percorrenza di corsie preferenziali al fine di non rimanere imbottigliati nel traffico la scelta di Viale Mario Rapisardi è stata voluta per collegare velocemente quella parte di Catania con il centro urbano propriamente detto ma non lo convince più di tanto chi li risiede o opera commercialmente non è escluso che chiuso il fronte di Viale Vittorio Veneto proprio quello di Viale Mario Rapisardi possa alimentare una polemica dettata da ragioni evidenti da un lato ma anche da circostanze non sopprimibili dall'altro e adesso andiamo a Milo per mostrarvi e farvi ascoltare rispettivamente le immagini e i suoni di un concerto di chitarra classica al sorgere del sole che ha dato appunto il via al Vini Milo 2019 pane caldo appena sfornato con olio dell'Etna colazione lo start dell'evento che celebra i vini alle falde del vulcano uno spettacolare concerto in piazza all'alba tra mare ed etna sono cominciate le due settimane di lavori sul mondo del vino degustazioni cene a tema dibattiti e confronti su viticultura ed enoturismo con esperti provenienti da Piemonte Trentino Veneto Toscana Lazio Umbria Campania e Puglia per il popolo dei One Lovers due weekend con l'Isola del Gusto e il banco assaggi con 170 etichette di 35 cantine dell'Etna 65 rossi 55 bianchi 30 rosati e ben 20 spumanti una vera sinfonia della natura nella piazza Belvedere di Milo per il primo evento della Vini Milo 2019 che ha riunito oltre un centinaio di visitatori mattinieri e incuriosito gruppi di ciclisti impegnati nella scalata domenicale del vulcano un concerto tra i rintocchi dei campanili e i borbottii dell'Etna che ha mostrato le due colonne di fumo dei crateri sommitali sul palco il maestro Massimo Scattolin per il concerto di chitarra classica che ha dato il via alla manifestazione al termine dopo i saluti e il benvenuto ai presenti del sindaco Alfio Cosentino l'attesa colazione del contadino con pane appena sfornato olio Etnadop e calici di bianco e rosso del vulcano fino all'8 settembre in programma ogni giorno degustazioni di vini cene a tema tavole rotonde workshop per addetti ai lavori come produttori trasformatori e imbottigliatori della filiera vitivinicola enologi e docenti universitari critici enogastronomici e giornalisti del settore e poi ancora sommelier AIS FISAR FIS e chef di vari territori appuntamenti in piazza dedicati agli amanti del vino nei due weekend del 31 agosto e del 7 settembre la piazza Belvedere di Milo spalancherà infatti la sua isola del gusto con decine di proposte gastronomiche tra street food ed eccellenze agroalimentari fra cui i presidi slow food tutti da esplorare sorseggiando calici rigorosamente di vetro di vino dell'Etna sullo sfondo la musica live spazio anche alla narrativa sempre nel weekend con l'enoteca letteraria a cura di Paolo Sessa e in collaborazione con Naxos Legge all'arte con la mostra all'ecomuseo dedicata all'end artist Alfio Bonanno e a un gruppo di allievi dell'Accademia di Belle Arti di Catania mentre per i bambini sono previsti i laboratori di manipolazione del legno di castagno nuovamente in studio per la conclusione del nostro telegiornale non ci sono infatti aggiornamenti dell'ultima ora e dunque si conclude qui la prima edizione di Ora Tg disponibile all'indirizzo che avete appena visto sovraimpressione sul canale Youtube e sulla pagina Facebook adesso le previsioni meteo per la giornata di domani a voi tutti buon pomeriggio sole, nuvole, foschia lo vedete nelle previsioni meteorologiche per la giornata di domani mercoledì 28 agosto il cielo sarà sereno su tutta l'isola ma ci saranno delle nubi che offuscheranno la giornata luminosa i venti saranno deboli i mari calmi uno sguardo adesso alle temperature che si mantengono pressoché stazionari rispetto a quelle dei giorni scorsi sul capoluogo etneo minima e massima rispettivamente di 24 e 35 gradi centigradi una situazione che si manterrà speculare dal messinese fino ad arrivare a Siracusa la temperatura più alta sarà rilevata non solo sulla città di Catania ma anche su Siracusa mentre quella più bassa sarà rilevata ad Enna con 15 gradi centigradi di Catania 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 di Catania